Un weekend pieno di motorsport dove Formula 1 e MotoGP corrono in contemporanea, il recent podcast della domenica si concentra sul moto mondiale GP di Assen, dopo tutto abbiamo spesso parlato di quattro ruote sul mio canale ma appunto ogni tanto è giusto parlare di due ruote che non sia superbike, parliamo di MotoGP, round olandese, l'università del moto mondiale ha ospitato il tradizionale Gran Premio d'Olanda e come oramai la tradizione degli ultimi tre anni, Bagnaia vince, domina e scherza gli avversari. Infatti dopo le vittorie del 2022 e del 2023 il pilota piemontese vince, scherza la concorrenza e fa quello che ne ha voglia anche nel 2024, terza vittoria consecutiva per il pilota piemontese che continua a essere il principale contender del moto mondiale rispetto a Org Martin che rimane comunque leader del campionato però appunto in questa pista c'era veramente poco da fare. Bagnaia ha imposto fin da subito il suo passo, un passo assolutamente superiore rispetto anche allo stesso Martin che ha fatto una gara molto buona ma finita in solitaria seconda posizione in quel di Assen e per il resto c'era veramente poco da fare. Pole Position in qualificazione con il record della pista, gara sprint vinta dominando, gara della domenica che appunto ha ricalcato lo stesso copiore del sabato. Dopotutto la MotoGP per questo weekend di Assen non ha regalato delle gare incredibili per quanto riguarda appunto la classe regina, per quanto riguarda ovviamente le posizioni che contavano, quindi la prima e la seconda che erano praticamente già ben determinate. Abbiamo avuto invece una grandissima lotta per il podio con un'Enea Bastenini in grandissima rimonta, Bastenini partiva a settimo, alla fine riesce ad arrivare in terza posizione e di conseguenza abbiamo l'ennesima tripletta Ducati sul podio, un'altra doppietta del team ufficiale Lenovo Ducati anche se in questo caso non abbiamo Bastenini in seconda posizione come nell'ultima competizione ma in terza posizione appunto in mezzo Org Martin che appunto per via anche della scelta di Ducati di lasciare ovviamente Team Prama Caliberi Destino Andrà via dal team ufficiale al netto che non è correlato Martina al team Prama ma appunto Martina andrà su una moto ufficiale ma del mercato ci parleremo dopo. Fatto sta che dopo questa gara molto anonima di Assen per quanto vede una grandissima vittoria di Bagnaia, terza consecutiva nelle ultime tre gare e terza consecutiva anche ad Assen, adesso il mondiale è totalmente riaperto. Non che non lo fosse chiuso ovviamente perché appunto in un campionato così lungo di 21 gare è improbabile avere un distacco di 30 punti considerabile come di sicurezza siccome in tutte le gare qui c'è la gara sprint. Bagnaia appunto vince, suona il canto di italiani per lui, 190 punti, seconda posizione solitaria per quello che solitamente sarà un duello a due per tutto il campionato. Il contendere principale è Org Martin che sta avendo comunque un gran ritmo da titolo del mondo esattamente come Bagnaia al netto che appunto lo spagnolo ha vinto due sole gare mentre Bagnaia quattro. Ma appunto entrambi i piloti hanno un pacchetto molto competitivo e se va male fanno primi cinque con tutti questi due piloti sempre sul podio allora è obiettivamente impossibile o molto difficile giocare per questi due piazzamenti. C'è lotta appunto come dicevo per il podio e questo giro la spunta Enea Bastenini che partiva in settima posizione, arriva terzo battendo fior fior di avversari. Vedi per esempio Mark Marquez che è quello che gli fregherà il posto in Ducati ufficiale il prossimo anno, lo stesso Di Gian Antonio che ha fatto una grandissima gara, lo stesso Maverick Vignales che con l'Aprilia in questa fase sembra comunque essere tornato più o meno sulla terra con risultati solidi almeno qui ad Assa. Insomma è stata una grandissima lotta ma appunto Bastenini ha dimostrato come in questa pista in generale la Ducati era veramente la moto da battere e tanto è vero che appunto nelle prime cinque posizioni abbiamo cinque Ducati per team diversi ovviamente però appunto la casa di Borgo Panigale ha fatto veramente quello che voleva in una gara che però va detto appunto non è stata indimenticabile. Gli altri piazzamenti appunto li andiamo a elencare pian piano, Mark Marquez quarta posizione con ferma del Mugello per il piatto spagnolo che sarà compagno di squadra di Bagnaia nel team ufficiale con scelte che hanno influenzato il mercato in generale ma appunto ne parleremo dopo la revisione della top 10. Quinta posizione appunto per Fabio Di Gian Antonio che pound for pound fa la miglior gara della stagione in questa gara di Assen, miglior risultato equiparato dopo Catalogna, ricordiamo che Di Gian Antonio corre sì per Ducati ma ha la moto dell'anno scorso il GP23 in forza al team VR46, sesto Maverick Vignales con la migliore delle Aprilia in una gara comunque solida. Poteva attentare al podio Vignales, non è riuscito a battere Vastellini nelle fasi che contavano ed evidentemente la sesta posizione rispecchia il valore in questo momento di Vignales. Settimo è Brett Binder con una gara anonima ma che comunque porta punti in agile top 10. Ottava posizione per quanto riguarda la gara di Assen è Alex Marquez, compagno di squadra di Mark del team Gresini. Nono per quanto riguarda la gara olandese è Raul Fernandez, pilota di Aprilia Trackhouse Racing che dovrebbe essere confermato nel team clienti della Casa di Noale e chiude la top 10 un ennesimo a Ducati, quella di Franco Morbidelli che finalmente citiamo. E sono contento di citare Franco Morbidelli perché è un pilota di talento che comunque ha vissuto le stagioni veramente infelici. Prima con Yamaha, poi con questo adattamento alla Ducati GP23. Sono due gare solide, le ultime Mugello e Olanda, quindi citiamo un piazzamento di rilievo per il pilota italiano ancora una volta. È una MotoGP che conferma i valori in campo. È evidente come Bastianini, Martini e Bagnaia non necessariamente in quest'ordine siano evidentemente i tre piloti da battere in questa fase storica. con una spanna sopra tutti evidentemente Bagnaia e Martina che saranno i due contender del mondo da qui fino a speriamo Valencia ultima gara in programma a novembre. Per il resto appunto la Ducati fa quello che vuole, Aprilia e KTM si difendono, le giapponesi sono after the music e finiscono merdesime. Nonostante ci siano poche chance di fare punti, insomma è una MotoGP che ha valori ben delineati e che fa parlare tanto in realtà per quello che cadrà nel 2025. Perché tra ridistribuzioni del pacchetto piloti e di team clienti abbiamo delle importanti novità. Per chi non avesse seguito il mercato tra la gara di Mugello e la gara di Assen sappiamo che Enea Bastianini andrà via da Ducati ufficiale perché appunto Mark Markets sarà appunto il suo sostituto. Bastianini insieme a Vignales sarà in KTM ufficiale insieme appunto a Binder e ad Acosta. Bisognerà rivedere poi chi verrà ridistribuito tra KTM propriamente detta e Casgas che è sempre però una KTM. In tutto questo la grande notizia è il team che riguarda il leader del campionato perché appunto sappiamo che Orge Martin appunto corre in questo momento per Pramac Racing che è appunto storico cliente Ducati da vent'anni. Martin però sappiamo che insieme a Marco Bezzè che andrà in aprile ufficiale perché appunto è condizionato dalla scelta di Mark Markets in Ducati ma non solo perché Ducati non solo perdono dei piloti più talentuosi in questo momento nel circuito cioè Orge Martin ma perde tutto il team Pramac. Il team Pramac è notizia di qualche giorno fa andrà ufficialmente a rinforzare la Yamaha. La Yamaha da anni non ha un team clienti. Prima c'era il team RNF che è l'attuale aprile a track house racing poi appunto la casa dei tre di Aposone è rimasta a becco asciutto adesso fa prestazioni orrende sia con Quartarò sia con Alex Rins anche oggi Rins caduto ma appunto high side in curva 1 può capitare Quartarò enesima gara anonima in dodicesima posizione però appunto Pramac dopo vent'anni di Ducati va in Yamaha e questo è figlio del fatto che questo signore qui cioè Mark Markets terzo assoluto in classifica del campionato ha scelto di andare in Ducati e Ducati appunto e qui citando le parole di Paolo Campinoti ha preferito prendere un grandissimo campione, un grandissimo talento per quanto a me stia antipatico ma la mia opinione conta il giusto come Mark Markets quindi di fatto un pilota di iper hype, iper marketing appunto come Cristiano Ronaldo nel calcio paradossalmente privandosi di uno storico team clienti Pramac Racing e dei due piloti di fatto perché Martino è cresciuto sostanzialmente in MotoGP con Ducati, Morbidelli non è cresciuto con Ducati ma comunque era un pilota su cui fare affidamento altri piloti comunque che abbiamo visto sono passati per Pramac vedi per esempio lo stesso Francesco Bagnaia insomma è una scelta che ha evidentemente spostato gli equilibri quindi ci sarà una ridistribuzione l'anno prossimo dei team clienti quindi Yamaha avrà quattro moto Ducati ne avrà soltanto tra virgolette sei però appunto è una scelta che fa riflettere perché appunto Ducati non ha fatto secondo me da tifoso Ducati una scelta così felice nel senso che va benissimo il Dream Team Bagnaia Marquez ma Marquez spesso abbiamo visto essere un pilota divisivo anche appunto a maggior ragione con compagni di squadra molto competitivi vedi Pedrosa con la Honda ai tempi d'oro oppure comunque è un elemento che evidentemente fa un non gruppo a parte in questo momento in Team Grisini ma perché gli conviene dal punto di vista dell'immagine diciamo che Marquez appunto ha fatto sì che Ducati scegliesse il marketing, il talento, tutto quello che volete a discapito di giovani piloti da far crescere perché adesso un sistema di farm appunto come è capitato con VR46 prima, Pramac poi, Grisini adesso eccetera eccetera viene un pochino meno e quindi a questo punto si apriranno le porte MotoGP per i piloti Yamaha che sono in Moto2 quindi per esempio i piloti del Team Mastercamp qualcuno dice della Bosco Scuro insomma sarà un percorso più difficile per altri piloti odocchiati da Ducati che appunto ha preferito una scelta di questo tipo francamente per vincere tutto in questo momento storico dove la Ducati è competitiva ci può ancora stare francamente avrei puntato su un team Bagnaia Martin molto più futuribile di Bagnaia Marquez detto che appunto Marquez non è ancora al 100% e non è sano quindi Marquez al 100% siamo per certo che potrebbe vincere mondiali a profusione però battere questo Bagnaia è difficile e Marquez non è mai più tornato letteralmente lui da quel classico infortunio di Heresi del 2020 dove appunto si ruppe l'omero e quindi da lì ha fatto veramente tanto fatica è vero che con Ducati si trova meglio però insomma è una scelta che ha spostato tanto gli equilibri ma dalla parte sbagliata secondo me annetto che mi auguro che se dovesse vincere qualcuno mondiale quello sia Francesco Bagnaia in quanto pilota decisamente più compatto in questo periodo storico di Marquez che invece si fa delle gare molto solide però appunto spesso è incostante la lancia il più del dovuto e per un team che punta a vincere tutto ci vogliono due piloti solidi al netto che appunto come talento puro nessuno mette in discussione né Bagnaia né tantomeno Mark Marquez parentesi out MotoGP diciamo out pista terminata passiamo alla Moto2 e alla Moto3 oltre che alla MotoE che hanno corso tutte e tre ad Assen con una Moto2 che vede una grande vittoria di Ayogura che c'entra la seconda vittoria stagionale per cui per il secondo classificato al livello assoluto della classe intermedia suona il Kimi Gayo l'inno nazionale giapponese per una gara che doveva in realtà vincere quello che è arrivato secondo ovvero Fermin Aldegher che aveva impresso un grandissimo passo ma appunto lo spagnolo subisce un giro lungo di penalità e quindi perde altro tempo non riesce poi a rimontare alla fine Aldegher si deve accontentare della seconda posizione il leader del campionato però è sempre Sergio Garcia che comunque fa una solida terza posizione podio per lo spagnolo sempre leader del campionato ma con 14 punti di vantaggio su Ayogura è una tripletta del team Bosco Scuro una casa italiana che prima si chiamava Speed Up e quindi è un evento storico perché se non mi ricordo male dovrebbe essere una delle prime una delle tante che abbiamo visto in questo campionato Moto2 che fino a tempo fa era un monomarca Kalex adesso arriva anche la Bosco Scuro e quindi c'è un po' più di competizione anche da questo punto di vista in Moto3 invece solita gara macello ma per una parte di gara perché nella prima metà arriva il classico gruppone della Moto3 alla fine provano a scappare in due che sono l'olandese Colin Weijer e lo spagnolo Ivan Ortola alla fine Ortola riesce a rimontare e battere Colin Weijer di 12 millesimi e dunque non arriva la vittoria olandese in casa suona invece la marcia reale per il pilota numero 48 del team MT Helmets che si toglie la soddisfazione di vincere non solo in Moto2 ma anche in Moto3 e Ortola con questa vittoria si sta al quarto posto solitario della classifica assoluta in categoria in seconda posizione Colin Weijer al secondo podio consecutivo sempre alla piazza d'onore e terzo invece David Munoz che nel macello per il podio alla fine sgomita e riesce a conquistare una piazza importante quinto posto assoluto per il giovane pilota spagnolo il leader del campionato è sempre il colombiano David Alonso che mette fine alla sua streak di vittorie tre consecutive con una quinta posizione però Alonso poteva giocarsi il podio diciamo che appunto il mondiale Moto3 è quello più chiuso verso un pilota rispetto invece a MotoGP e Moto2 che sono obiettivamente più aperti chiudiamo la parentesi del racing podcast del moto mondiale con la MotoE che di fatto ha scavato il giro di boa della stagione otto round in programma per la classe delle moto elettriche tutte conducati il leader del campionato è sempre Mattia Casadei ma ha sottolineato tre punti di vantaggio su Kevin Zannoni entrambi i piloti in realtà non fanno delle gare clamorose ci aspettano dunque per gli altri per rimontare gara 1 la vince Hector Garzò anche per lui suona la marcia reale in seconda posizione abbiamo Alessandro Zaccone che invece qui ad Assen si dimostrerà un pilota molto molto quadrato terzo posto invece per Oscar Gutierrez altro pilota molto interessante è molto giovane ha fatto delle grandi rimonte perché da entrambe le gare partiva in undicesima posizione e una volta fa terzo e una volta fa secondo però secondo dietro Alessandro Zaccone che torna a vincere in MotoE dopo il 2021 suona per lui il canto degli italiani e quinto posto assoluto appunto per il pilota con la carina numero 61 secondo l'Oscar Gutierrez di qui sopra e terzo Hector Garzò di fatto in questa gara di MotoE in questo weekend di MotoE meglio Zaccone e Garzò di Gutierrez ne avevano letteralmente più di tutti e quindi sono posti assolutamente legittimi solita parentesi per quanto riguarda il femminile corre in MotoE ricordiamo Maria Herrera che ha vinto le prime due gare della storia del campionato mondiale femminile di Superbike o meglio della Yamaha R7 monomarca arrivano punti per la pilota spagnola dodicesima posizione e tredicesima in gara 2 per la pilota spagnola che occupa comunque la penultima posizione in classifica del campionato MotoGP e tutte le altre categorie che abbiamo visto che arriveranno tutte tra una settimana in Germania Gran Premio del Saxe Ring in contemporanea anche una volta con la Formula 1 che correrà a Silverstone vedremo di che cosa parlare se di Moto Mondiale o di Formula 1 Formula 2 e Formula 3 che appunto mentre stanno resistendo stanno correndo in Austria il Gran Premio del Red Bull Ring il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video